L'ansia, l'ansia vera e propria, la stessa ansia che ti porta a una partita importante, una partita magari di una competizione europea o di una finale di coppa, di qualcosa di tosto, di un incastro, di un incontro, di un campionato, uno scontro ad alti livelli, invece era soltanto un Juventus-Lecce, soltanto un Juventus-Lecce di un mercoledì pomeriggio alle 18 con uno stadio mezzo vuoto e questo ti fa capire cos'è diventato, cosa stava vivendo la Juventus, qual era l'aria che tirava in casa Juve. Una Juve che torna a vincere, l'ultima volta era accaduto il primo di aprile, gol per 1-0, vittoria per 1-0, gol di Moise Ken, oggi la Juve torna alla vittoria, torna alla vittoria sempre con un gol di scarto, torna alla vittoria ancora una volta con un gol di un attaccante, Lucian Blauvic che ha fatto un gol capolavoro, io non mi ricordavo nemmeno più come si faceva vincere, questa cosa stava preoccupando, mi stava preoccupando, non che ora sia tranquillo perché poi ne parleremo, però sicuramente una Juve che finalmente torna un attimo a respirare per un momento, che in questo infrasettimanale chi ci dovrà preparare appunto a una sfida che sarà ben più tosta e complicata, anzi le prossime due saranno ben piuttosto complicate perché sia Atalanta che Siviglia, secondo me saranno partite dove la Juventus farà una fatica assurda e la fatica l'ha fatta pure oggi perché abbiamo questo brutto vizio che non è roba a poco, non è roba a poco, non chiudere le partite e ritrovarti fino all'ultimo istante con l'ansia, con il leccio che ti attacca, che va a fare questo calcio d'angolo in cui se sbagli qualcosina poi ti ritrovi con un pareggio. Oggi il palo è stato a favore del Lecce, per fortuna del Lecce quel tiro di Danilo non è entrato invece per fortuna della Juve non era entrato all'andata, quindi un palo a testa determinante per il risultato finale, ce lo portiamo a casa noi all'andata e loro al ritorno, quindi bene o male una partita che poteva riassumersi, una prestazione tra andata e ritorno che poteva cambiare un risultato più che una prestazione proprio per via del palo e quel palo di Danilo ci faceva andare sul 3-1 come quel gol sbagliato da Miretti ci faceva andare sul 3-1, come quel gol fatto da Miretti che purtroppo poi in realtà era in fuorigioco di mezzo piede che ci avrebbe portato sul 2-0 quindi una Juventus che di occasioni per andarla a chiudere sta partita ne ha avute tutto sommato credo che la vittoria della Juventus sia meritata, il problema di fondo è che una partita del genere se poi non la chiudi può essere meritata finché vuoi ma il calcio vive di sfumature, il calcio vive di episodi e hai rischiato comunque di poter regalare a Lecce una partita che poteva riaprirsi all'improvviso proprio su un calcio d'angolo io vi dico la verità, sta vittoria della Juventus secondo me non era così scontata, non lo era per niente perché il periodo era complicato e secondo me Lecce ci ha dimostrato che poteva forse davvero portarsi a casa anche qualcosa di più, Lecce che all'andata non mi aveva per niente convinto invece adesso ho visto un Lecce audace che secondo me è anche complice il fatto che l'allenatore possa avergli detto ragazzi ma noi siamo in difficoltà, sì, noi siamo una squadra della zona di retrocessione sì, non è a Turin che dobbiamo fare i punti ma contro questa Juve i punti li possiamo fare pure noi quindi secondo me c'è stato un po' di coraggio da parte del Lecce proprio derivata dalla posizione dall'attuale momento della Juve, è incredibile che la Juventus si ritrovi in vantaggio con un gol di Paredes su punizione, alzi la mano chi poteva immaginare di passare in vantaggio col gol di Paredes su punizione è entrato nel tabellino marcatori pure lui quindi in questa stagione ha lasciato il segno per la Juve poi ha preso un cartellino giallo e fino all'ultimo ho temuto potessimo prendere un altro cartellino giallo proprio su Paredes e quindi potesse lasciarci in dieci per fortuna è andato così, tra l'altro è stato sostituito rilevato da Locatelli per via di qualche problemino, tra l'altro era diffidato quindi con l'Atalanta non ci sarà, ecco un problema che potremmo portarci dentro da qui al termine della stagione potrebbe essere quello di Desciglio che ad oggi possiamo dire una distorsione al ginocchio domani vedremo, ci saranno gli esami strumentali e capiremo se ci sarà anche qualcosina di più non sono stato tranquillissimo durante la partita, devo essere onesto perché Bonucci mi ha fatto ballare e poi per fortuna si è tirato fuori dal cilindro quell'intervento mostruoso, veramente mostruoso sull'attaccante del Lecce che ci sarà stata una finta molto interessante da parte del suo compagno di reparto e Bonucci ci ha messo il piedone lì, è stato un intervento meraviglioso di Bonucci ma per il resto della partita ci ha fatto ballare non poco Lecce è una squadra che crossa molto, spesso e volentieri, l'hanno detto anche nel pre-partita e secondo me ha mantenuto le attese, hanno crossato veramente tantissimo infatti secondo me la Juventus da questo punto di vista non è intervenuta molto bene infatti non è un caso che poi il rigore nasca proprio da una palla messa in mezzo poi il rimpallo ancora una volta da Nilo c'è un dato da tenere in considerazione perché tra Inter, Sporting Lisbona, Bologna e Lecce stiamo iniziando a concedere un po' troppi calci di rigore questo che non diventi una costante e secondo me nasce proprio dal fatto che stiamo iniziando a dire sì va bene, accetto, sì va bene, accetto di giocarmela nella mia area di rigore e a forza di rimanere lì, rimanere lì, rimanere lì è un po' anche sulla falsa riga dell'errore a Reggio Emilia di Fagioli a forza di essere pressato, a forza di ricevere comunque a difesa sollecitata palloni messi in mezzo e poi l'errore arriva che può essere Daniloggi, può essere Bremer con l'Inter, può essere Fagioli con il Sassuolo però la costante è sempre quella, una difesa costantemente messa sotto pressione e nasce anche da lì poi il discorso di una Juve che non chiude le partite infatti se poi non chiude le partite e gli avversari continuano a vedere la possibilità di andare a buttare dentro il pallone la possibilità di andare a far male alla Juve non siamo nella condizione assolutamente ideale per cercare di tenere alta la baracca anche perché oggi è la 101esima panchina di Allegri al suo ritorno appunto alla Juventus di due anni fa e siamo al gol 101 subito quindi significa che comunque la Juve è costantemente stressata e costantemente presa di mira anche dall'attacco degli avversari da questo punto di vista bisogna migliorare non poco Fagioli e Miretti si cercano e si trovano veramente bene il gol confezionato da Miretti era stato un vero e proprio capolavoro peccato per quel fuorigioco millimetrico che puoi vedere veramente solo al VAR invece l'altro gol bello infatti il gol di Paredes è su punizione bello anche se probabilmente il portiere del Lecce non so se ha messo male la barriera o se la barriera si è aperta strano che sia passata così il gol di Miretti era bello per come era nato con l'assist di Fagioli molto bello pure quello ma il gol di Vlaovic è veramente molto bello ecco io qua credo che sia stato molto bravo Allegri che l'ha tenuto fuori per qualche partita tre partite una per infortunio comunque non stava benissimo e due per scelta tecnica credo che Vlaovic si sia un po' ricaricato dal punto di vista mentale Vlaovic che nell'ultimo periodo stava iniziando a sbagliare anche i gol più facili e in questo momento forse ha fatto uno dei più difficili vi dico la verità mi è venuto in mente Gonzalo Higuain perché quello è il suo gol quella girata lì Higuain e Trezeghi bene o male sono i due attaccanti della Juve che vado ad associare a quel tipo di gesto tecnico quindi molto bene una cosa invece da migliorare è che comunque complessivamente se abbiamo avuto tante occasioni da gol abbiamo tirato poco in porta infatti vado un attimino a controllare ma credo che siano stati soltanto tre i tiri in porta della Juventus in questa partita segno che c'è stata in precisione i due gol quindi Parede e Sevlaovic e il tiro di Kostic nel finale dove ha tirato in porta con il portiere magari qualche passo più avanti non siamo riusciti a trovare l'impatto ci sono state diverse occasioni in realtà in cui nel secondo tempo la Juventus poteva provare a strappare ed andare a fare il terzo gol mi viene in mente quella contropiede di Chiesa che non ha gestito per niente bene o sempre Chiesa che crossa per Vlaovic forse con un po' troppo fretta bisogna iniziare a ragionare un po' di più e questo ovviamente ricade sui calciatori perché è il calciatore che poi ci mette fretta ci mette in precisione però bisognerebbe prepararle un po' meglio secondo me quelle situazioni perché poi Allegri si arrabbia giustamente si arrabbia Allegri perché il calciatore non può perdere l'opportunità di andare a chiudere la partita o perdere questi palloni in contropiede che sono molto importanti però bisognerebbe prepararli preventivamente perché tutte le volte si ha l'impressione che il calciatore non sappia mai cosa deve fare perché quanti giocatori accompagna l'azione quanti vengono su con me quanti vanno a riempire l'aria quanti vengono larghi quanti stanno invece centrali quindi queste sono cose che secondo me vanno preparate decisamente meglio in allenamento perché poi l'abbiamo visto i calciatori quando si ritrovano in queste situazioni in partita poi fanno molta fatica che cos'altro dire? ah Di Maria non mi è piaciuto per niente Di Maria proprio come atteggiamento al di là della prestazione e secondo me si può anche un po' scavare all'interno di quello che era stata l'indiscrezione o la chiacchiera relativa a un Di Maria che non era partito per Bologna per via di un'infortunio alla Caviglia Allegri ha detto sì gli è passato questo infortunio però mi è sembrato un Di Maria molto distaccato dalla Juve ora vedremo perché ripeto le prossime due partite sono molto importanti in Serie A perché è uno scontro detto per la Champions se anche oggi è stata una partita piena di episodi che secondo me la Juve ha meritato di vincere non è stata comunque completamente convincente anzi ripeto il Lecce ha avuto la possibilità fino all'ultimo secondo di riaprire una partita perché se tu non le chiudi poi è anche logico che gli avversari vadano a crederci è giusto che sia così quindi convincente non è proprio l'aggettivo migliore per descrivere questa partita meritata credo di sì il palo di Danilo ripeto il gol sbagliato Ramiretti ce ne sono state veramente tantissime se poi noi non siamo bravi a concretizzarle è giusto che che rimanga in bilico se poi ci mettiamo anche del nostro abbassandoci tanto ritornando a difese posizionali di un certo tipo questo rientra all'interno del calderone di tanti flashback stagionali però ripeto Atalanta e Siviglia saranno due partite molto più impegnative e la Juventus vista oggi che è sicuramente un passettino in avanti diciamo che il Bologna è stato un passettino in avanti rispetto alle partite di aprile il Lecce è stato un passettino in avanti rispetto al Bologna per il risultato principalmente ecco ora tra Atalanta e Siviglia prestazioni di questo tipo probabilmente non saranno sufficienti inizieremo a pensarci da domani intanto godiamoci una vittoria nei limiti ovviamente perché la Juventus ha il dovere è logico che la Juventus debba vincere in casa contro una squadra che lotta per non retrocedere però era da troppo tempo che non vincevamo e quindi ha tutto un altro gusto questa vittoria diciamo così all'interno delle difficoltà bisogna impararsi imparare a prendersi anche queste piccole soddisfazioni questi piccoli cambiamenti che tanto piccoli nel mese di aprile non sono sembrati